Giovedì 15 ottobre, buongiorno a tutti, ben ritrovati, carissimi telespettatori sul canale 17 come tutte le mattine c'è la rassegna stampa, occhio ai giornali con l'almanacco, poi le previsioni del tempo insomma e qualche chiacchiera qua e là. Allora oggi è Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa dottore della Chiesa il sole è sorto alle 7.21 tramontare alle 18.26, uno sguardo al meteo con il satellite vedete come ancora nel sud dell'Italia sia in atto una forte perturbazione 15 gradi e 8 la temperatura di questa mattina alle 7.30 per oggi avremo cielo irragolarmente nuvoloso nella mattinata con attenuazione della copertura dal pomeriggio, avremo locali o brevi fenomeni residui durante la notte e al primo mattino quelli che stiamo vivendo e avendo in queste ore. Temperature senza variazione di rilievo i venti sono deboli o moderati, il mare mosso per domani. Venerdì 16 ottobre cielo parzialmente nuvoloso con qualche addensamento più consistente sul settore nord della regione non si escludono deboli e sporadici precipitazioni nel settore montano e in quello settentrionale vedete la provincia di Pesaro, il Monte Feltro, la parte interna della regione Marche, centro settentrionale le temperature sono in diminuzione in particolare nei valori minimi i venti sono deboli, il mare è poco mosso. Per la giornata di sabato, sabato 17 ottobre anche sabato avremo cielo parzialmente nuvoloso con occasionali e deboli fenomeni più probabili nelle zone interne centro-meridionali, le temperature sono senza variazione di rilievo i venti deboli, il mare sarà poco mosso. Avremo ancora variabilità sulle Marche almeno fino a lunedì con basso rischio però di precipitazioni. Allora i giornali questa mattina di cosa parlano? Parlano dello stadio, l'intervento in consiglio comunale del sindaco Massimo Seri dell'intervento del consigliere Santorelli e poi si parla dei rimborsi rimborsi che prendono per le loro attività istituzionali sia il sindaco di Fano Massimo Seri che è quello di Pesaro Matteo Ricci che come vedremo spesso è anche in televisione quindi qualcuno ha cominciato a domandarsi ma chi paga poi tutte queste trasferte ma c'è una brutta storia, una bruttissima storia anzi che racconta questa mattina il resto del Carlino che riguarda un personaggio del quale ci siamo occupati anche noi una persona molto conosciuta che vive sulla sua pelle una malattia, una terribile malattia che è la sclerosi multipla. Il personaggio in questione è Ivan Cottini il Corvo, chi è il Corvo? È solitamente uno che scrive in maniera anonima e che poi giornalisticamente prende il nome di Corvo colui che teoricamente dovrebbe sapere cose che quindi scrive di quella persona piuttosto che quell'altra trattacca un po' le varie situazioni descrive varie situazioni in questo caso il Corvo ha preso di mira Ivan Cottini e ha scritto una lettera a quanto pare un po' fuori di testa nel senso è una lettera anonima con tanti insulti, tante critiche che poi la giornalista sulla pagina di oggi del resto del Carlino descrive e scrive bene un po' tutta quella che è la situazione noi ci limitiamo ai titoli il Corvo contro il modello malato lettera anonima con insulti e critiche speculi sulla tua malattia brutte parole c'è anche addirittura all'interno di questa lettera l'augurio di stare peggio di finire vegetale addirittura una cosa terribile per questo ragazzo di Urmania che raccoglie fondi per l'Aism che è l'associazione italiana Sclerosi Multipla con eventi ospitate in televisione poi tra l'altro continua lui dice risponde a queste farneticazioni dice forse risponde in modo amaro giustamente Ivan Cottini dice forse la malattia ha scelto la persona sbagliata perché a me piace ed è sempre piaciuto apparire ricordate e ricordo che Ivan Cottini è stato fino a tre anni fa un modello quindi questo fa di mestiere faceva di mestiere oggi sfida questa malattia dice la malattia forse ha scelto la persona sbagliata perché a me piace ed è sempre piaciuto apparire visto che il mio passato era anche questo oggi io sfrutto la malattia come lei sfrutta me per mostrare, conclude, che la vita deve andare avanti e non deve fermare i sogni e i desideri uno sfogo certamente amaro fa benissimo ad andare avanti Ivan su quello che sta facendo sulla sua sensibilizzazione e quindi non deve far conto naturalmente ci deve pensare fino a un certo punto però dispiace a Cottini che sia stata presa di mira anche la famiglia andiamo avanti con la lettura dei giornali la pagina di Fano un spaccio di droga vicino al chiostro stiamo parlando del chiostro che si trova vicino che si trova in pieno centro storico i residenti dice adesso fateci mettere i cancelli perché sta vicino a San Domenico la ex chiesa di San Domenico San Domenico e Vienolfi sono piazze gettonatissime i condomini sono esasperati gli spacciatori, racconta uno che abita lì sono sia maggiorenni che minorenni sono rumeni, fanesi, africani, cileni contornati da ragazzini che non acquistano soltanto fumo ne vedo anche di lucrezze che vengono giù per prendere la roba e mi si contorcono le budella al solo pensiero l'amministratore dice ho scritto a tutte le autorità per le barriere ho già parlato con la soprintendenza poi l'altra pagina invece del resto del cardino prima di chiudere lo stadio devono passare sul mio corpo il sindaco in consiglio comunale risponde a Santorelli sugli scontri venerdì tavolo istituzionale col prefetto e metteremo dice cartelli per segnalare i parcheggi ospiti la polemica, la tristezza dei carristi il tempo stringe, il carnevale muore stiamo parlando delle sfilate del carnevale del prossimo 24, 31 gennaio e 7 febbraio il tempo scrivono quelli dell'associazione carristi fanesi insieme all'associazione Fantagruel, Furlani e Pacassoni incalzano l'ente carnevalesca e il carnevale dicono insomma ancora non hanno risposto al progetto per la realizzazione dei carri e delle mascherate e dunque vogliamo sapere che cosa dobbiamo fare perché insomma qui il tempo stringe noi dobbiamo fare questi carri e non sappiamo cosa fare a Fano sei immobili sequestrati alla mafia ma si sa solo di una villa e di un appartamento interrogazione dei grillini chi ne ha la disponibilità in che stato sono l'assessore Mascarin so dell'edificio dice di Sant'Orso degli altri quattro non conosco coinvolgere le associazioni i rimborsi dicevamo i rimborsi spesa il sindaco di Fano sta a Carrara così scatta il rimborso per andare in comune a lavorare incassati 880 euro le critiche del Movimento 5 Stelle convincono Seri a restituire questi soldi non appare nessuna uscita Seri ho pagato tutto di tasca mia anche a St. Albans quando è andato St. Albans nella città inglese gemellata con Fano spese registrate a Pesaro viaggi al Salone del Mobile all'Expo al Bari Film Festival anche 12 euro per un pasto nel corso di una missione all'Inps Marco Paolini non molla la legge prevede che io debba avere un rimborso non capisco perché i 5 Stelle chiedano di rinunciarvi non rubo la marmellata Ricci invece e quindi i conti in tasca questa volta a Pesaro Ricci viaggia molto ma non costa spesso pagano le TV o l'Anci che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dei 2.000 euro di uscita del 2015 un terzo è rientrato al comune dopo il caso San Marino in comune sottolineano che il sindaco Matteo Ricci non ha la carta di credito del comune dell'ente e non ha mai voluto averla anche perché questo vale per tutti non solo per i sindaci ma non c'è la carta di credito poi è un disastro è difficile controllarsi viaggi e rimborsi sono pubblici ma è un'odissea arrivare a scoprirli insomma comunque adesso al di là però è importante che ci sia sempre questo fiato sul collo agli amministratori adesso non solo ai politici nostri ma soprattutto a Roma bisognerebbe continuare a stare sul fiato sul collo per quanto riguarda le spese dei contribuenti andiamo sul Corriere Adriatico Palazzina Fuoco, case inagibili due famiglie evacuate l'incendio è stato provocato dalla braccia di un camino siamo ad Urbino in via Venezia poi sotto invece in 110 sul bus tenuncia dei liceali insomma stracarico quest'autobus un gruppo di studenti si rivolge alla polizia insomma viaggiare con 110 persone a bordo se poi il pullman ne tiene molti di meno insomma è un po' rischioso la pagina di Fano stadio sicuro non si chiude il sindaco accoglie l'istanza di Santorelli critico invece col SIULP il sindacato di polizia il nostro tifo è il migliore dice evidenziati gli errori nella gestione dell'ordine pubblico durante il derby contro la San Benedettese ma se rieloge il lavoro di polizia e di carabinieri a Poderino nuova viabilità e senso unico a senso unico i residenti accolgono il progetto dell'assessore Marcheggiani Omiccioli invece dice ottima soluzione accolte le nostre proposte misericordia e carità a Fano arriva il Vescovo Bianchi dell'Azione Cattolica sarà in città per parlare di misericordia l'assistente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Mansueto Bianchi il Vescovo infatti terrà un incontro pubblico aperto a tutti questo pomeriggio alle ore 18 nel centro pastorale di Ocesano in via Roma 118 la denuncia la denuncia della questione delle ambulanze gli autisti noi vittime dei disagi dipendenti di Solaris dopo la denuncia di frodi in televisione il caso delle Lenzuola anche noi siamo vittime di quello che sta accadendo esprimono tutta la loro amarezza i 19 dipendenti di Solaris ex Croce Azzurra che dopo il servizio televisivo andato in onda su Italia 1 si sono sentiti oggetto di accuse per quanto riguarda le frodi alla sanità di cui avevano parlato l'altra sera le Iene se non avete visto il servizio probabilmente non avete ben inteso di cosa si sta parlando area vasta fatture irregolari controllo controllo i controlli sono in atto andiamo sulla pagina di Pesaro del Corriere arrestato Giuseppe Bruscoli condannato a 4 anni l'ex presidente della VIS in carcere in seguito a una sentenza della Corte d'Appello di Ancona parcheggio al cimitero nuovo accordo sarà realizzato dalla FME ma dal Comune una variante per rendere edificabili due terreni l'altra pagina spaccata lampo siamo a Senigallia spaccata lampo rubate le slot machine ride dal break caffè lungo l'Arceviese in azione tre banditi a colpi di mazza a centro pagina invece le maxi multe allontanano le prostitute le lucciole e anche i clienti fenomeno in sensibile calo dunque verrebbe da dire che Senigallia sta vincendo questa battaglia questa partita contro contro le lucciole in strada il vicequestore Licari dice controlli costanti abbiamo sanzionato decine di persone e poi il giornale il messaggero che apre con il referendum sulle fusioni la regione ha deciso entro il 10 dicembre dice si vota a Pesaro e Monbaroccio e Urbino e Tavoletto nei comuni assorbiti dovranno essere mantenuti però i municipi ed eletti i consiglieri locali a centro pagina invece i rimborsi sempre per quanto riguarda il sindaco di Pesaro a Ricci 1385 euro si parla delle trasferte del sindaco e anche della giunta 5000 euro di costi all'anno siamo tra i più bassi siamo tra quelli che spendono meno in Italia bancarotta vis bruscoli sconta la condanna in cella sentenza in giudicato i carabinieri bussano alla porta dell'ex patron Giuseppe poi il meteo momenti di sole e tra le nuvole tra le nuvole sparse andiamo sulle pagine interne del messaggero Michele Ferri il fratello di Andrea che è stato ucciso lo ricorderete qualche anno fa da un suo ex dipendente con un complice Michele Ferri ora spero che la condanna sia confermata il fratello della vittima continuerò ad essere sempre presente ad ogni udienza sia in appello ad Ancona che in Cassazione chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero anche qui sulla sicurezza dello stadio Mancini di Fano se ridifende la struttura chiedere la chiusura sarebbe deleterio in consiglio comunale il caso dei disordini il sindaco dice colpa dei problemi organizzativi siamo già in contatto con la questura per adottare accorgimenti necessari il primo cittadino risponde al sindacato di polizia il SIULP rinunciare al Mancini un danno per lo sport e per l'intera città e c'è stato il funerale ieri di Gian Bruno Auspici ex assessore comunale del comune di Fano morto lunedì scorso a 73 anni nel reparto di medicina interna del Santa Croce dove Auspici era ricoverato da qualche tempo dicevo dei funerali chiesa agremita per l'addio il partito dei comunisti italiani immensa passione per la politica e poi la cronaca investita mentre torna da scuola tanta paura per una ragazzina di 12 anni appena scesa dall'autobus tre ore d'ansia poi il sollievo è accaduto ieri intorno alle 13 e 30 per una brutta una brusca caduta a terra trasportata al pronto soccorso è stata posta sotto accertamenti la 12enne è stata ritenuta fuori pericolo intorno alle 16 e 30 è stata investita da un'auto mentre tornava da scuola ed era diretta nella sua abitazione nella frazione fenile della frazione fanese di Fenile e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani arrivederci a domani a domani a domani a domani